Buonasera a tutti, benvenuti in piazza Beretta 1812 per la giostra dei sapori. Abbiamo il nostro mastro salumiere Daniele Magni, eccolo qui, ci racconterà la storia, la tradizione e qualche curiosità della mortadella Bologna IGP. Grazie. Grazie. Signore e signore buonasera, sono Daniele, io mi occupo della produzione della mortadella verso l'unificio Beretta. La mortadella è per antonomasia la regina del salume italiano. Perché regina? Perché è l'unico prodotto nazionale al 100%, perché mentre se prendiamo un esempio dei salami, abbiamo tanti tipi di salami pur essendo tutelati da marchi, da consorzi o quant'altro, la mortadella è unica. Perché è unica? Perché la mortadella ha una storia molto molto lunga, ci vorrebbero delle ore per raccontarla. Si parla che la mortadella sia nata addirittura nel primo secolo dopo Cristo e questo è già dall'idea. Poi si parla di Bologna. Perché mortadella di Bologna? Perché la mortadella di Bologna è cresciuta proprio nell'Emilia Romagna, in primis dove vi erano i grandi boschi di querce e di quant'altro dove trovavano alimento i suini. Però già nel 1600 abbiamo avuto un primo approccio all'IGP, chiamiamola così, sulla mortadella. Perché la mortadella si chiama, il nome deriva mortadella da mortaio, così si dice. Perché a quell'epoca era la carne di animali prevalentemente suini che veniva pestata dentro il mortaio, quindi per renderla fine. Poi venivano aggiunti dei pezzi di grasso, più le spezie e cotta in forni con aria calda e basta. Però andando avanti nel tempo, intorno appunto al 1600, dove la storia narra, abbiamo delle prime segnali del vero IGP, dove la mortadella è nata solamente dove doveva essere prodotta solo con carni suine. Mentre prima erano ammesse, diciamo così, anche carni di equini o di bovini e quant'altro, di equini. Mentre dal 1600 in poi ci sono documenti storici che parlano appunto di carne suina veramente. La parte grassa, diciamo, o il pezzetto di bianco che vediamo nella mortadella, si tratta di grasso, però trattato in una maniera molto particolare. Perché si prende il grasso della gola del maiale, che è il grasso più pregiato che esista su tutto l'animale, viene fatto a cubetti, dopo essere stato cubettato viene lavato con acqua calda a circa 65-70 gradi. Questo per permettere che tutto il grasso, quello che è proprio unto, che è pesante da digerire, diciamo così, viene eliminato. Normalmente si usano, diciamo, le classiche spezie che possono essere del pepe, della noce moscata, della cannella, dei chiodi di garofano, dell'aglio, però sempre in piccole dosi, perché il segreto della mortadella sta prevalentemente nel modo, nel trattamento in cui viene fatto dopo, diciamo, essere stata macinata e insaccata, che è la cottura. Perché la mortadella è un prodotto cotto. La cottura della mortadella viene, a differenza di tutti gli altri prodotti, come fosse il prosciutto cotto, come fosse la porchetta, il prosciutto cotto viene fatto, diciamo così, bollire, o cotto o a vapore oppure bollito in acqua. La porchetta viene fatta nel forno, quindi ha molta più assomiglianza ad un arrosto. Mentre la mortadella viene insaccata, che possono avere forme diverse, e poi cotta nei forni con solo aria calda. Questo permette di dare il colore rosa tipico, ma soprattutto di dare quell'esaltazione agli aromi e ai profumi tipico del prodotto. Per una mortadella tipo questa, dove abbiamo un diametro di una fetta che è circa di 24-25 centimetri, pensiamo che la cottura di una mortadella del genere deve durare almeno tra le 25 e le 28 ore. Essendo un prodotto che va bene sia per uno spuntino, in qualsiasi momento della giornata, che va bene sia per uno spuntino di mezzamattina, sia per un pranzo completo, diciamo per un secondo di un mezzogiorno, o anche per un aperitivo, una cosa molto molto comoda e stuzzicante, che poi esprime anche molto bene il gusto, il profumo e l'aroma di questo prodotto, che quindi è molto apprezzato, si può fare anche in un prodotto fatto a cubetti. Quindi si prende, si taglia una fetta in maniera, con un bello spessore, si fanno dei cubettini, e questi sono un modo molto molto gradito per apprezzare questo tipo di prodotto. Comunque questo prodotto fatto in questo modo, può essere benissimo fatto in un bel piatto, o un bel aperitivo per fare. Quindi viva la mortadella perché è un prodotto genuino al 100%. E viva la mortadella di Bologna! Facciamo un bel applauso alla nostra Cesarina, a Carmela Riccardi, che viene qua a presentarsi la sua Bologna in rosa, anche perché la mortadella è conosciuta proprio come la regina rosa d'Emilia. Le cesarine sono 400 in tutta Italia, in 150 città, e sono semplicemente delle padrone di casa che cercano di esaltare, di mantenere le tradizioni regionali. Chiaramente c'è un gruppo di valutazione che viene a casa e valuta se sei in grado di tenere alto, diciamo, le capacità culinarie della regione. Quello che vi voglio proporre questa sera è una mousse di mortadella. Nella mousse di mortadella ho cercato di abbinare praticamente l'oggetto che sono la mortadella alla besciamella, che è un altro elemento fondamentale anche della cucina nordica e emiliana. Gli ingredienti di base sono la besciamella ed è la mortadella. Noi utilizzeremo 500 grammi di mortadella tagliata a tocchi e li mettiamo in un padellino. Poi mettiamo la besciamella già preparata per questioni anche di organizzazione, la aggiungiamo. Allora intanto la besciamella si fa con 250 ml di latte, 25 grammi di burro e 25 grammi di farina. In un padellino si fa sciogliere il burro, una volta che si è sciolto il burro si mette la farina, si usa un frustino per girarlo e si mette il latte. Dopo un po' si addensa e si capisce immediatamente che è fatta. Un po' di sale e un po' di pepe e praticamente si inizia ad emulsionarla con il mini pimer. Sono rimessi degli ingredienti che sono i pistacchi tritati, la noce moscata perché tra l'altro fa parte degli ingredienti della mortadella, del parmigiano e anche un po' di olio di coratina extravergine che è quel piccante che un po' aiuta a emulsionare bene il tutto. Lo apriamo al libro, prendiamo la mousse già preparata, poi dato che uno degli elementi fondamentali è anche il pistacchio, lo tocciamo nel pistacchio e quindi viene questo bel paninetto che poi voi avete servito nel piatto con un po' di insalata. E adesso invece andiamo a presentare, come dicevamo prima, la nostra food blogger, questa innovazione, questa ricetta 2.0 innovativa di Ornella Buzzone che ci racconterà appunto di questi cubotti di mortadella fritta. Da me in campagna la mortadella si mangia in due modi, o condita semplicemente con del limone, sale e pepe oppure fritta. Perciò oggi voglio proporve la fritta con un catni di prugne. Che cos'è un catni di prugne? È un tipo una marmellata, un insieme di spezie e frutta, in questo caso delle prugne, che vengono cotte insieme ed esce fuori una marmellata. Perciò ho fatto questo binomio di dolce salato, perciò uso delle prugne, eccole qua, abbastanza sode devono essere, dello zucchero di canna, dell'aceto di vino bianco, del peperoncino, cannella e rosmarino fresco. Per i cubotti di mortadella uso dei cubotti abbastanza grossi, delle uova, del pangrattato, sale e pepe, le prugne con lo zucchero e l'aceto. Mentre vanno, si vanno ad aromatizzare con il peperoncino e la cannella. Uniamo il nostro rosmarino. Chiaramente bisogna cuocere il catni per circa 20 minuti. I cubotti invece li prepariamo sbattendo le uova e facendo amalgamare, cioè passare la mortadella prima nelle uova e poi nel pangrattato. Una chicca, se a casa non avete il pangrattato, da noi al sud si sbriciolano i taralli. Alla fine, andiamo a friggere la nostra mortadella in una pentola d'olio abbastanza bollente, deve diventare dorata. Appena cotta la serviamo, sia fredda che calda. È buona in entrambi i modi con questa base di crema di prugne, la mortadella, un po' di rosmarino e una grattata di... Io ci metto una grattata di limone, perché ti dà un po' di freschezza. Io ci metto un po' di rosmarino e un po' di rosmarino e un po' di rosmarino.